Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi, a tutti e a tutte e ringrazio soprattutto la professoressa Michela Pereira che abbiamo qui a Siena, quella che è stata la sua università fino a qualche anno fa e che oggi presta la sua voce all'inaugurazione del centro studi MedioEva che appunto è destinato allo studio in particolare delle scrittrici del MedioEvo che sono tante, molte più di quanto si possa pensare e lei oggi ci parlerà di una delle più grandi appunto il De Garda di Bingen. Prima di tutto vorrei però appunto dire che questa inaugurazione del nostro centro ancora in assenza purtroppo di sito che però ci sarà da un momento all'altro e nel quale appunto saranno presentate le linee programmatiche del nostro studio, del nostro lavoro e le iniziative del centro. Questa inaugurazione appunto è anche la prima lezione di apertura di un ciclo destinato alle maestre, maestre di studi medievali, quindi avremo insieme dopo a Michela Pereira, altre grandi studiose che si sono impegnate in questo ambito cronologico specifico e che appunto guardano a quelle produzioni medievali sia dal punto di vista filosofico come Michela, sia letterario, sia storico, sia artistico e via dicendo. Scrittrici del MedioEvo ma anche poi figure femminili nella letteratura del MedioEvo però diciamo un po' in subordine. Ecco ci terremo prima di tutto a parlare della produzione delle donne, della produzione della scrittura delle donne del MedioEvo. Il centro MedioEva ha sede qui a Siena, principale, ma si articola in tre università. È un centro interuniversitario, la seconda università che partecipa al nostro centro è l'Università di Roma Sapienza e la terza è l'Università di Tour in Francia. Da Roma Sapienza abbiamo la collega Donatella Manzoli alla quale passo il microfono per un saluto. Grazie Natascia. Io sono molto contenta di portare i saluti di Sapienza e della sezione romana di MedioEva. Qui c'è il professor Garbini e a Roma abbiamo il professor Luzzi che non è qui e manda i saluti. Eh beh allora MedioEva non poteva esordire in maniera migliore eh a Siena eh con il primo appuntamento di questo bel progetto eh maestre che è stato pensato da Natascia Tonelli e che oggi ci regala la lezione magistrale di Michela Pereira. Eh possiamo dire che MedioEva vediamo che MedioEva sta muovendo speditamente i suoi primi passi. Eh neanche un mese fa abbiamo organizzato a Roma un convegno internazionale che ha visto un'ottima presenza di pubblico e ha suscitato un grande interesse anche fra gli studenti. e la cosa più importante sono poi gli studenti che ci scrivono, ci chiedono informazioni, chiedono di poter partecipare, collaborare in qualche modo. E abbiamo in cantiere molte iniziative e è in stampa per Carocci un'antologia che raccoglie scritture di donne eh nelle lingue dell'Europa medievale alla quale ha offerto un contributo anche appunto la professoressa Pereira e mh in programma c'è la costituzione di una collana mai tradotte eh quindi la la pubblicazione di testi mh scritti da donne appunto nelle varie lingue ehm che non sono mai usciti in traduzione italiana. Natascia lamentava ancora la latitanza del del sito però da due giorni e mezzo ehm due valenti studiosi di sapienza i miei laureandi Chiara Bellaveglia e Giacomo Evangelisti hanno costituito, nutrito e arricchito un profilo Instagram. Io sono del tutto digiuna di social però eh chi ha una certa dimestichezza o ha modo di accedere eh lo faccia perché è un profilo costruito con sapienza e e che dà un'ottima visibilità alle nostre inizioni. Eh? No, intendevo con sapienza. Eh hanno per esempio diciamo diffuso la notizia dell'incontro di oggi con entusiasi hanno messo le foto del delle copertine dei volumi della professoressa Pereira insomma ehm secondo me è un'impresa meritevole che va e che va allodata e quindi cominciamo con una grande maestra che parlerà di una grande maestra e ti ripasso la parola. Grazie Donatella e per ricordare che qui eh il centro medioeve è stato eh fortemente eh voluto e ideato dalla direttrice del centro che è Elisabetta Bartoli che siede qui in prima fila e insieme a lei da Maria Rita di Giglio. quindi siamo noi tre diciamo le rappresentanti del centro e anche per dire ancora che il sito non c'è ma è pronto quindi nel giro di pochi giorni sarà sarà visibile frequentabile eccetera eccetera. eh il nostro ciclo maestre è diciamo creato in ehm correlazione e coordinato eh insieme al dottorato eh di ricerca che fa eh che ha sede qui al nostro dipartimento e naturalmente eh con il dipartimento che ospita che ospita il centro. eh va bene io direi che a questo punto possiamo dare la parola a Michela che è la massima esperta di Hildegard che ha eh fra le altre cose in vari libri anche di tipo di alta divulgazione su Hildegard dopo tanti anni che si occupa di Hildegard che si occupa di scritture femminili che si occupa anche così di diffondere eh la presenza della scrittura femminile dal medioevo in poi è stata una delle prime che si è impegnata in queste cose fin dagli anni settanta mi pare vero? vabbè lo dice ma tu non lo fai vedere quindi va bene così e appunto ha tradotto e curato eh insieme a Marta Crisciani che il la prima traduzione del del libro delle opere divine di eh di Hildegard ehm ma io direi che non faccio un elenco delle tue numerose pubblicazioni che peraltro potete trovare perché eh Michela Perey continua a collaborare a lavorare attivamente con Sismel per cui in quel sito troverete il suo curriculum trovate eh tutto quanto e la ringrazio ancora di aver accettato il nostro invito e le passo la parola. Grazie. Sono io che ringrazio eh Natascia e le altre amiche del centro medioeva e tutte le persone dell'Università di Siena studentesse, studenti eh sono abbastanza emozionata e soprattutto molto onorata di essere qui a aprire questo ciclo perché medioeva è eh nella mia percezione eh una rifioritura di studi no? E promette anche una grande rifioritura di studi eh sulle donne medievali a cui davvero molti anni fa forse anche un po' troppo in anticipo o qualcosa del genere eh ho dedicato un po' delle mie energie non proprio tutte perché poi sono abbastanza onnivora e ho fatto anche altre cose ma eh il mio primo incontro con il De Garda appunto è avvenuto nel 79 quindi fate un po' il conto. Come vedete apro con una cosa che non è in senso stretto medievale perché è una installazione eh fatta nel 1979 da eh giudici cago eh e poi adesso conservata al Brooklyn Museum di New York eh il dinner party pensato da giudici cago era una eh tavolata di trentanove donne eh sono tre è una tavolata triangolare su ogni lato ci sono tredici donne e il de garda sta nella eh è la 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 donna la commensale che siede al centro del del lato diciamo di fronte all'entrata al centro del lato che occupa le donne medievali e rinascimentali perché perché eh perché apro con questa diapositiva al di là che eh è anche una cosa piacevole da vedere perché il de garda è stata riscoperta nel novecento dal femminismo ben prima eh eh canonizzata e proclamata dottora della chiesa nel del duemiladodici ci tengo a a rivendicare in qualche modo questa eh priorità perché ehm in realtà eh oggi no in questo anno per esempio sono stata perseguitata dalle richieste di interventi di ogni tipo e in ogni contesto moltissimi dei quali ho rifiutato perché eh c'è una tendenza a fare di il de garda ormai un santino non una santa ma un santino e e il de garda è molto di più di questo e secondo me anche eh da un punto di vista proprio della ehm del dei credenti delle delle persone che la considerano eh una santa eh c'è molto da imparare molto di più di quanto eh magari quello stesso papa che l'ha canonizzata non non si aspetti ehm credo poi chiudo con questa con questo spunto credo che da un punto di vista eh diciamo della ehm lezione che il de garda ha da dare al mondo eh i dottori della chiesa devono sono tali perché hanno qualcosa da insegnare eh la maggior l'eco del suo insegnamento in ambito ecclesiastico si senta nella laudato sì eh il de garda poi eh insieme al femminismo e in un c'è in Germania anche prima era stata ehm in qualche modo un'icona delle medicine naturali adesso molto anche in Italia ma in Germania eh le medicine naturali hanno 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 avuto campo hanno seguito da da molto più tempo che da noi e poi sempre a partire dagli anni settanta nella musica hm non probabilmente molti e molti fra voi avranno si saranno in qualche misura imbattuti perché internet è piena YouTube è piena di cose di il de garda allora perché eh dico che il de garda ha molto da insegnare perché il suo pensiero è un pensiero sapienziale quindi è un pensiero che non si separa dalla vita ma collega in maniera consapevole non casuale le esigenze cognitive della ragione e le dinamiche trasformative della vita quindi il il pensiero del de garda è un pensiero che mira a produrre una conoscenza che ha il suo fulcro nella relazione degli esseri umani con il mondo nei suoi aspetti sia materiali che spirituali e questo elemento soprattutto la relazione tra il corpo umano e il corpo del mondo è per un'autrice medievale un elemento da da sottolineare ma è anche la eh la sua eh diciamo eh l'elemento che forse è più da sottolineare nella nostra contemporaneità eh in il de garda che era dotata della cultura di base accessibile nelle scuole monastiche dunque aveva ehm accesso a quello che era lo 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 sviluppo no della della ragione del del della cultura del suo tempo in il de garda la scelta sapienziale nasce dall'esperienza di contatto con il principio trascendente ovvero il de garda può essere eh in una certa misura ed è correntemente definita una mistica e si esprime questa sua scelta per il pensiero sapienziale si esprime come conoscenza profetica eh il de garda stessa si definisce in una eh lettera la piccola tromba attraverso cui si esprime la parola divina io parlo nel linguaggio del eh del ventunesimo secolo di trascendenza il de garda naturalmente parla di Dio e delle e dei per e accoglie diciamo il racconto biblico nella sua letteralità il de garda era nata proprio a prima appena prima del dell'anno mille eh della dell'inizio del dodicesimo secolo scusate nel millenovantotto era una bambina molto fragile e fin da piccola segnata da episodi visionari eh lei racconta in un brano autobiografico conservato nella vita che aveva appena tre anni quando accadde questa cosa lei vide questa cosa che era talmente piccola non solo non capiva cosa di che si trattasse ma non sapeva nemmeno dirlo e allora per questi due aspetti e per la tradizione della piccola dell'aristocrazia medievale di destinare eh una parte dei figli alla vita religiosa venne affidata a aiuta di Sponheim che le fu maestra e insieme che era di pochi anni più grande di lei e insieme entrarono nell'abbazia benedettina di Desi Bodenberg nel mille centododici per revivervi come recluse qui vedete delle foto di quelli che sono i resti eh dell'abbazia e dove questo è forse questa questa parte qui è forse identificabile come l'entrata del reclusorio delle delle donne in questo ambiente si formò un piccolo gruppo di eh monache nel corso degli anni di cui il de Garda venne eletta magistra dopo che nel mille centotrentasei era morta Jutta eh che era stata appunto eh la la loro magistra fino a quel punto alla fine degli anni quaranta dopo più di trent'anni quindi trascorsi a Desi Bodenberg il de Garda dette vita a una nuova fondazione tutta femminile si spostò con le monache del del piccolo gruppo di monache che erano a quel punto circa una ventina ehm a una certa distanza da Ruppersberg sulla collina di fronti a Bingen sulla eh ehm confluenza alla confluenza della NAE col Reno eh lo spostamento aveva un po' questo significato di Sibodenberg è nell'interno eh rispetto a Reno voglio dire a una trentina di chilometri e Bingen è proprio alla confluenza di due fiumi ed è quindi un centro di commerci un centro molto vitale da un punto di vista economico e culturale in quel in quel periodo quando si trasferì eh con questo piccolo suo gruppo il de Garda aveva già cominciato a registrare per scritto le visioni come dice lei costretta dallo spirito non eh ci aveva messo molti anni ed era servito molto aiuto da parte della magistra e da parte del monaco Volmar perché potesse comprendere e accettare quello che gli accadeva eh è la l'inserimento nella vita monastica le ha permesso appunto diciamo le ha dato lo spazio eh materiale spirituale per arrivare a questa comprensione eh verso la fine degli degli anni degli anni 40 eh il de Garda racconta in questo testo che è messo poi a eh prologo eh del dello Sibias cioè del suo primo libro di visioni racconta quello che le è accaduto accadde nell'anno 1140 dall'incarnazione del figlio di Dio eccetera il chiarore infuocato di un lampo fortissimo venendo dal cielo che si era aperto penetrò totalmente il mio cervello infiammò tutto il mio cuore e il petto come fiamma che non brucia ma riscalda come il sole riscalda ciò su cui posa i suoi raggi ecco queste parole questo come il sole eh sono le stesse esattamente con cui il de Garda negli stessi anni nel libro naturalistico e nella parte che poi è confluita nel di causa et cure eh scrive la stessa cosa del piacere sessuale femminile e io trovo molto bello che riflettendo retrospettivamente sulla propria esperienza quella visione che l'ha costretta a cominciare a scrivere come lei dice il test è molto lungo ne ho riportato solo una parte eh lei eh faccia questo accenno alla alla Joa a quello che è proprio il il piacere e il testo appunto ne vedete una buona parte non non l'ho riportato tutto perché era lunghissimo e mostra come la penetrazione della luce divina quella che lei chiama Lux Vivens eh che è un'esperienza di natura mistica dia origine a un cambiamento del di lei come soggetto a cui appunto ingiunge il compito profetico di comunicare al mondo ciò che vede ed un tratto ero diventata sapiente quello che le eh che le è accaduto è che ha iniziato a comprendere non tanto eh a utilizzare i suoi strumenti culturali per commentare la Bibbia ma a comprenderne il significato profondo delle scritture e delle eh soprattutto bibliche eh perché 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 mentre vede lei dice ode una voce una voce che forse somiglia più a un brusio a una musica oggi si si ritiene che lei in realtà eh abbia un'esperienza abbia avuto delle esperienze sinestesiche che ha poi in qualche modo cercato di tradurre eh per mostrare in parole e forme umane quella eh quella eh intuizione eh in in sé ineffabile la 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 l'invisibile che l'estrato che l'è stato mostrato nel fuoco dello spirito quindi nella visione riceve la capacità profetica di leggere i segni del tempo in cui vive che interpreta alla luce della storia sacra e dando dunque di questa una nuova esposizione perché riconosce nella propria esperienza la somiglianza con quella dei profeti vetero testamentari che lei dice vedevano nell'ombra e lei in un altro eh testo in cui descrive la sua esperienza mi eh mistica appunto dice che la lux vivens la visita eh ogni tanto raramente e quando la visita le dà gioia eh la la rende che allegra come una ragazzina mentre dice quando scrive a più di settant'anni mentre ora sono una donna ormai anziana ma mi comporto ancora come se fossi quasi una bambina però quello che poi vede lo vede nell'ombra della luce vivente umbra viventi luminis la chiama e vede le cose gli avvenimenti le scritture le vicende umane eh come eh riflessi nell'acqua e o come nell'ombra appunto eccolo allora eh questa visione del che lei racconta nella protestificazio è il primo momento è il passaggio il passaggio dal ricevere queste rivelazioni e ricevere l'ingiunzione di renderle pubbliche eh cosa che per una donna del suo tempo anche per un uomo in realtà del suo tempo non era così banale occorreva avere un'autorizzazione per scrivere ricevere dai propri superiori o ecclesiastici o monastici e per una donna questa necessità è ancora più forte allora eh il De Garda attraversa in questi nella metà nella fine nella seconda metà degli anni quaranta un periodo in cui da una parte scrive queste visioni aiutata dal monaco Volmar che l'aveva eh già seguita diciamo quando era da giovane sotto la magistra aiuta e Volmar è il primo che istituisce una serie di mediazioni con i monaci di Disibodenberg e poi con la gerarchia della chiesa di eh Magonza da cui eh Ruppersberg Disibodenberg e Ruppersberg dipendono e e poi il secondo passo di questa mediazione si ha quando il De Garda scrive a Bernardo da Chiaravalle Bernardo da Chiaravalle che era eh lo chiamano gli storici il papa senza tiara cioè era il personaggio più importante della chiesa del tempo e poi scrive anche al papa Eugenio III e a entrambi parla delle sue visioni come di qualcosa di misterioso eh che le accade lei usa sia il termine il termine mysticus per indicare appunto il carattere misterioso di quello che le succede e non contesta la tradizione medievale che vede la donna come una creatura debole più debole dell'uomo più bisognosa ancora di autorizzazione questa tradizione che tutti conosciamo sintetizzata nella paratimologia secondo cui Mulier deriverebbe da Mollior più debole ma non si allinea alla svalutazione patriarcale della debolezza anzi individua in questa qualità un elemento che facilita l'apertura alla trascendenza e la capacità anche direi politica senza troppe virgolette eh veramente politica di porsi come il limite della forza Bernardo ed Eugenio le rispondono eh approvando o riconoscendo soprattutto la lettera di Bernardo è sintomatica da questo punto di vista riconoscendo il suo carisma dove Dio ha posto la sua unzione chi sono io per per oppormi e e quindi il De Garda diviene una autorevole voce pubblica in questo modo a quel punto quel che ha già scritto e quello che finisce di scrivere nei successivi tre anni diventa il suo primo libro profetico appunto il cui titolo è scivias apprendi le vie del signore e così eh diventa un personaggio pubblico un uno studioso americano l'ha definita in un suo saggio badessa del mondo in realtà il De Garda poi non diventa mai giuridicamente una badessa perché Ruppersberg continua a dipendere da Disy Bodenberg dove c'è una bate e lei eh diciamo è magistra eh non non ha il titolo di badessa però badessa del mondo eh è abbastanza diciamo pregnante come definizione sua sviluppa infatti un'ampia rete di relazioni con i potenti della chiesa e con i potenti del mondo oltre che con numerosissime ehm rappresentanti del monachesimo abati badesse comunità monastiche intere vere e proprie e anche con laici e con donne laiche nel suo epistolario abbiamo appunto una testimonianza dei vari modi che lei ha di porsi negli ammonimenti che indirizza ai potenti e a quanti considera responsabili dei mali del mondo delle della crisi che agita il suo tempo si presenta come tramite del giudizio divino utilizzando per queste sue lettere per questi suoi moniti eh toni spesso molto duri e che e e diciamo aprendo queste epistole sempre con eh nella stessa forma visionaria con cui funzionano i suoi testi profetici ho visto eh ho visto questa questa figura di donna grandissima e bellissima all'origine ma tutta sporca tutta eh annerita con la veste lacerata ed è una lettera sui mali della chiesa indirizzata a Werner di Kierkeim a un abate e e così se ne potrebbero eh citare tante mentre quando scrive per esempio alle comunità monastiche specialmente femminili o alle donne laiche o anche a Eleonora d'Aquitania si mostra eh materna non è mai indulgente ma offre i suoi consigli e in compenso dall'altra parte si rifiuta in mani con toni eh sprezzanti di fare previsioni eh sono una profetessa non sono una indovina in qualche modo no non non dice letteralmente così ma è questo che fa intendere cioè io vedo eh io io sono la piccola tromba che parla attraverso cui parla la voce di Dio ma non sono qui per rispondere alle vostre domande spicciole su cosa vi succederà e sempre sottolinea appunto che le sue parole provengono dalla fonte divina che di lei si serve come interprete avendo acquisito però questa autorevolezza è eh in in età anche già molto avanzata perché nel 1158 a 60 anni che nel medioevo è una bell'età eh comincia a predicare a predicare pubblicamente non soltanto scambiandosi le visite monastiche nei monasteri cosa che era abbastanza abituale e concessa anche alle donne ma pubblica eh predica nella pubblica piazza e di questo abbiamo eh numerose attestazioni non solo nei suoi tesi nelle sue epistole ma nelle cronache del tempo eh in ogni modo rimane sempre eh basata a Ruppersberg che come vedete è questo puntino nero qui al centro della della mappa si muove in tutte le le direzioni delle della regione centrale diciamo della Germania e a Ruppersberg eh intanto intanto in quegli anni si forma nella sua comunità si forma uno scriptorium oltre ai lavori normali per un'abbazia femminile la filatura la tessitura ovviamente la cucina ovviamente l'orto ovviamente tutte le cose che che regolano che che permettono di di mantenere la vita materiale ora et la a Ruppersberg si forma appunto uno scriptorium eh che nella che a partire dal secondi anni cinquanta eh comincia a eh elaborare in qualche modo una sorta di tradizione il degardiana cominciano a copiare le opere d'Hildegarda eh per eh e soprattutto a partire dagli anni sessanta fino alla sua morte lei muore nel 1179 e anche dopo eh si cominciano a a confezionare dei manoscritti che devono valere come eh diciamo il testo il testo critico diremmo oggi il testo eh eh Nevaietur eh eh questa è la la legatura del Risen Codex che appunto ho scritto a partire dagli anni sessanta nello scriptorium di Ruppersberg o qualche sciagurato che che scrive libri su il degarda di seconda terza quarta mano dice che il Risen Codex è autografo no di il degarda non abbiamo una riga tracciata eh e tuttavia è stato per la maggior parte confezionato quando lei era ancora viva quindi sotto la sua supervisione il codice gemello a questo eh che oggi è perduto eh forse solo perduto forse non è andato davvero distrutto ma nessuno sa dove sia conteneva anche una versione illustrata miniata del liber scivias su cui eh adesso eh andiamo in queste opere vedete che le opere sono molto varie eh lei ha scritto eh su su argomenti diversi il tema di fondo del suo pensiero è la reintegrazione dell'armonia originaria della creazione che secondo il mito biblico lei legge come spezzata dalla caduta dell'angelo ribelle prima e poi dal peccato originale cioè dal 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 fatto che il demonio riesce a vincere la resistenza eh umana e dai successivi tentativi eh del demonio di rivalersi su dio attraverso gli uomini appunto nel peccato originale e in tutte le successive manifestazioni del male nella storia. I motivi di fondo sviluppati in questo grande affresco complessivo dove i temi si rincorrono i simboli si rincorrono eh ma sempre eh con una coerenza eh di fondo totale i temi sono fondamentalmente quattro. Da una parte la comprensione del senso della storia che è poi l'argomento su cui è costruito il suo primo libro profetico appunto Scivias. Quindi la creazione, la caduta, la redenzione, la fine dei tempi. Questo poi eh in parte eh diventa eh diciamo oggetto della sua fama dopo la morte per cui per molti secoli poi il De Garda viene considerata una profetessa apocalittica e basta e la funzione della chiesa. Poi il secondo tema e secondo me è veramente il il primo e il principale è la comprensione della vita umana nei suoi aspetti psicologici e nelle sue scelte etiche che si valgono diciamo di un rapporto privilegiato degli esseri umani con le virtù che non sono non sono eh acquisizioni eh o eh possesso della del della dell'anima umana ma sono teofanie sono manifestazioni della vita divina eh provengono da Dio e gli esseri umani le devono accogliere in qualche modo. Quindi la vita eh morale eh dell'umanità non si fa con le norme, con le regole, con l'esercizio, si fa con l'apertura hm a questo dono divino che complementa i doni dello Spirito Santo, sette doni classici e complementa i doni delle beatitudini. Eh il terzo punto è la comprensione dell'integrazione fra vita cosmica in cui si manifesta la vita divina, lo Spirito Santo e la vita umana. E questo è l'argomento del terzo grande libro eh profetico il Liber Divinorum Operum. Il secondo appunto la le le virtù è il Liber Vite Meritorum. E infine la sapienza pratica della reintegrazione mediante la vita regolata dalle virtù dalla virtù della discrezio che è il virtù principale nella regola di San Benedetto e che per il de Garda è una di queste virtù che appunto ci provengono, ci arrivano eh ci vengono donate ma bisogna accoglierle, bisogna saperle accogliere. E poi attraverso il nutrimento e la cura della salute e quindi il libro naturalistico, il Liber Subtilitatum che poi la tradizione ci ha tramandato sdoppiato in una parte più enciclopediche, una parte più medica, la fisica e le cause et cure. E poi il canto, la pratica del canto. Le opere musicali di il de Garda come credo tutti ormai sappiano eh sono eh scritte parole in musica eh cantautrice del dodicesimo secolo. Allora nelle visioni il de Garda vede l'invisibile nel visibile o meglio vede l'invisibile attraverso il visibile, non perde i sensi, non va in estasi nelle visioni. Il suo sapere si basa sulla lettura simbolica della realtà storica e naturale. Il simbolo nella definizione che ne dà un suo contemporaneo Ugo da San Vittore è un collegamento operato tra le realtà visibili per rendere comprensibili quelle che non si vedono. Dunque lettura simbolica non significa lettura irrazionale ma segnala una modalità di conoscenza che è in grado di tenere insieme molteplici fonti, molteplici dimensioni e molteplici livelli del sapere. Ora l'esempio forse più immediato che potevo portarvi è questa immagine del cosmo che appartiene che è l'immagine eh della visione della terza visione del primo libro eh dello Scivias. Attraverso una eh allora qui lo vedete eh da una pagina di questo volume uscito nel duemiladiciannove in cui tutte le miniature dello Scivias e poi in un secondo volume uscito l'anno scorso tutte quelle del Divinorum Operum sono state eh prese analizzate in maniera estremamente minuziosa da questa studiosa Sara Salvadori che eh articolandole con il testo eh ha proprio segnato minutamente eh punto per punto le corrispondenze simboliche. il De Garda rielabora lo schema di origine classica dei quattro elementi cosmici eh per eh insegnare eh diciamo l'unità e la vita eh del l'unità della vita dell'universo. Contemporaneamente però questi elementi per esempio il intanto il fuoco che è duplice il fuoco eh brillante eh luminoso e il fuoco nero e poi ci abbiamo l'etere e l'aria e poi ci abbiamo l'aria che circonda la terra l'aria più pesante e poi la terra la montagna che qui è un po' nascosta dal numero quattro. Ma queste che sono appunto una rielaborazione dello schema classico degli elementi poi significano anche eh realtà spirituali e per esempio il fuoco lucido eh indica insomma simboleggia l'azione di Dio verso le creature il fuoco tenebroso le insidie del demonio gli astri quassù in alto sono eh un simbolo della Trinità eccetera eccetera. Quindi attraverso la contemplazione del di ciò che si vede si possono intuire gli invisibili segreti nell'eterno eh che si manifestano nella storia e si rendono attingibili alla alla mente umana. Questi invisibili segreti si sviluppano nel tema della presenza divina in tutte le creature attraverso l'opera dello Spirito Santo e poi si sviluppano ulteriormente perché nel pensiero di Hildegarda c'è anche una evoluzione si riconosce proprio un passaggio dagli anni eh quaranta agli anni sessanta eh per cui nel terzo libro profetico nel Divino Romo Operum si arriva proprio a una comprensione chiara e a una eh è una eh diciamo definizione o una descrizione esplicita del ruolo dell'incarnazione di Cristo non solo come centrale nella storia della salvezza che questo va da sé per tutti i cristiani ma come tema come compimento della creazione presente fin dall'origine nel piano divino. Eh questo non è un pensiero solo di Hildegarda è un tema eh che con il il termine tecnico di predestinazione assoluta è sviluppato anche da altri autori alto medievali e anche alcuni tardo medievali ma eh Hildegarda lo riesce a raffigurarlo sim e a e a dargli una densità simbolica che eh pochi altri sono riusciti a fare. Eh allora abbiamo visto che eh Hildegarda nello scivia se si colloca eh si riconosce affine ai profeti dell'antico testamento come loro vede nell'ombra ma l'intuizione eh del della eh incarnazione che come compimento della creazione le deriva da un passo ulteriore nella sua nel suo percorso di di crescita e questo passo interiore colloca il profetismo in continuità con la riveliazione neotestamentaria con eh l'evangelista Giovanni il cui prologo lei effettivamente commenta proprio al centro il la parte centrale del Liber Divinorum Operum eh è costituita da due commenti biblici quello al prologo del Vangelo di Giovanni alla fine della quarta visione della prima parte e quello alla Genesi nella seconda visione eh nella prima visione della seconda parte. Questo eh diciamo questo passo ulteriore l'è stato eh reso possibile da una visione che è l'unica che lei definisce con questi termini mistica e mirabile traslittero il latino proprio qui tale che tutte le mie viscere ne furono scosse e i miei sensi corporei ne furono annientati il perché il mio modo di conoscere fu trasformato come se non mi riconoscessi più. Quindi il De Garda in questa visione che avviene intorno al mille centosessantadue sessantatré perde i sé è la prima volta che che cade in estasi cade in estasi e ciò che riporta da questa visione le viene rivelato in maniera misteriosa durante questa perdita di sé come se non mi riconoscessi più. Le altre volte quando vedeva nell'ombra lei ci tiene a dire che era vigile hm e che vedeva attraverso ma non perdeva contatto con la realtà. Qui l'ha perso e l'ha perso come? Come il santo evangelista Giovanni quando rivelò i misteri e le opere segrete dicendo eh in principio era il verbo. Infatti guardate un testo è bellissimo è un testo autobiografi uno degli inserti autobiografici e anche un po' forse auto-agiografici che sono inseriti nella vita di Il De Garda. Il verbo ordinò tutte le creature di venire all'essere e fece in esse la sua opera a somiglianza del fabbro che fa sprizzare le scintille col suo lavoro. L'essere umano è opera di Dio insieme a tutta la creazione. È l'operaio della divinità. Operarius è proprio eh. In esso sono adombrati i misteri. Ecco dunque quella visione mi insegnò e mi dette la capacità di spiegare tutto il testo e ogni parola del suo Vangelo che tratta dell'inizio dell'opera di Dio e mi resi conto che questa spiegazione doveva essere l'inizio di una nuova scrittura che non era stata ancora rivelata e qui è bellissimo perché Il De Garda dice proprio scrittura e scrittura è un termine un tantino ambiguo perché può voler dire un suo libro ma eh evoca qualche cosa di diverso e che in essa in questa scrittura dovevano essere indagati molti e dettagliati aspetti delle creature del mistero divino e questo è proprio il suo testo no? Il suo Liber Divinorum Operum. Il Divinorum Operum che quindi costituisce in qualche modo la somma del suo pensiero. Lei nella terza parte riprende e sintetizza quello che ha già aveva già sviluppato nello scivias ma nelle prime due parti espone in maniera compiuta i capisaldi del suo pensiero inserendo la storia umana in una visione ampia articolata del rapporto fra Dio il mondo e dell'uomo e vede la creazione come una specie di parto delle eh del creato all'interno della Trinità queste sono la prima figura la prima visione in cui la Trinità è raffigurata in maniera abbastanza tradizionale con le due teste lo spirito il padre l'agnello e eh e la seconda visione invece come vedete il corpo dello spirito si apre e l'agnello diventa un antropos un antropos che sta al centro del mondo e che è contemporaneamente il verbo l'agnello e l'essere umano da cui Cristo ha preso la sua veste di carne l'essere umano che era stato creato con il corpo per due ragioni fondamentalmente da una parte per non perché gli fosse messo un limite e non ripetesse l'errore di Lucifero che riconoscendosi razionale e luminoso si era paragonato al creatore e quindi era precipitato eh nell'abisso il corpo dunque è prima di tutto un limite ma il corpo è anche la veste del figlio ed è dall'inizio a questo appunto è nel parlare della creazione dell'uomo sia nel prologo che nel commento al prologo che nel commento alla genesi che il de Garda eh definisce appunto questa cosa che il il verbo era destinato ad assumere questa veste di carne il corpo umano eh e questo costituisce lei dice il settimo giorno la pienezza delle opere allora Dio si riposa da ogni opera eh aspettate eh il figlio in cui si manifesta la pienezza delle buone opere e in cui Dio si riposa da ogni opera nel figlio si riposa cioè dalle opere della creazione fra le quali l'essere umano è la più perfetta è plenum opus dei l'essere umano la pienezza dell'opera divina e questo il Garda lo scrive sia nel Liber Divinorum Operum vedete il testo a destra l'anima e la carne sono un'unica opera in due nature l'opera di Dio che contiene la totalità delle creature l'uomo e quando dice uomo dice eh creatura umana sessuata uomo e donna l'uomo infatti è la pienezza delle opere divine e nel libro naturalistico nel prologo della fisica al momento della creazione dell'uomo dalla terra fu tratta una terra diversa sempre l'uomo eh io traduco l'essere umano tutti gli elementi erano al suo servizio poiché percepivano che era vivo quindi era vivo partecipava della vita del divino dello spirito divino e collaboravano con lui in tutte le sue attività e lui con loro attenzione l'uomo microcosmo immago dei tutto quanto è il responsabile delle creature non è il dominatore la terra forniva la sua viriditas a seconda della specie della natura dei comportamenti di tutto l'ambiente umano e su questo termine di viriditas ci fermiamo un attimo perché è un termine chiave per il de garda viriditas che vuol dire alla lettera il colore verde è la fecondità creativa in tutte le sue espressioni è viriditas il fuoco dello spirito santo che vitalizza tutto il mondo ed è viriditas la l'erba che spunta dalla terra ma addirittura sono ricche di viriditas anche le pietre i minerali che hanno un ruolo come come medicine come medicamenti la concezione il de gardiana dell'essere umano è uno degli aspetti più profondi e originali del suo pensiero ed è lo snodo che tiene assieme la sua riflessione teologica con quella naturalistica l'essere umano appunto non solo compende il mondo nella sua forma corporea ed è quindi microcosmo ma partecipa attivamente alla storia della salvezza attraverso la collaborazione all'opera dello spirito santo e questo è possibile perché l'umanità è duale e attenzione è duale in quanto originariamente composta di corpo e anima ed è anche duale doppiamente duale in quanto originariamente maschio e femmina ma duale non significa divisa in due significa piuttosto che la sua unità è polarità ed è in quanto polarità contiene la possibilità della molteplicità e noi oggi 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 lo leggiamo meglio no pensiamo al codice binario numericamente la combinazione di due elementi ma da una uno sterminio di numeri simbolicamente tutta la tradizione simbolica legge il due come principio della molteplicità dunque la valorizzazione della dualità anima corpo e della dualità sessuata è un passo fondamentale con cui il degarda siamo nel dodicesimo secolo incunea nella visione monocratica del patriarcato il tema della differenza come realtà originaria e anche su questo devo fare attenzione alcuni anche non i più infimi studiosi di il degarda insinuano che in lei ci sia un aspetto di manicheismo perché insiste molto su questo tema del due e un due anche che spesso si manifesta nella fenomenologia della vita del mondo come conflittualità conflittualità fra corpo e anima conflittualità fra uomo e mondo eccetera ma per il degarda non si tratta di un residuo di manicheismo il degarda è ferocemente anti catara proprio ferocemente sul serio scrive una lettera contro i catari che è uno dei pezzi forti della sua come dire che mostrano altro che badessa del mondo ogni tanto sembra la madre inquisitora insomma perché lei non vede la dualità come opposizione di principi ma come differenziazione e relazione del principio unico cioè in qualche modo misterioso il mistero trinitario nel dare vita nel fare spazio alla creazione ma si manifesta nella sua relazionalità e quindi non può non essere due la creazione il creato non può non essere due quindi la separazione e il dissidio fra corpo e anima la divisione che cristallizza e oppone i due poli sono per il degarda conseguenza del peccato e nel racconto che fa della creazione dei primi esseri umani da una piega particolare alla narrazione biblica che rimane sempre naturalmente la fonte lo sfondo dio creando l'essere umano vuole produrre una vestia adeguata all'incarnazione del verbo e non fermandosi all'uomo modellato dalla terra dette vita la donna caratterizzata sì da una minore forza perché veniva dalla carne di Adamo non dalla terra ma da una maggiore finezza scusate questa mi è rimasta no da una maggiore finezza e bellezza il corpo della donna scrive il degarda sfolgorò radioso ai primordi quando fu formato come contenitore di ogni creatura che in esso si nasconde perché dice il degarda per due ragioni da una parte perché fu fatto dall'esperto dito di dio e dall'altra per la sua suprema bellezza il corpo della donna è la suprema bellezza della creazione è il corpo di Eva che doveva essere la veste di Cristo la bellezza di Eva ultima e più raffinata fra le creature è la bellezza di Maria Maria è il compimento di tutto ciò che Eva doveva essere se non fosse stata sedotta dal demonio insieme Eva e Maria tornano tantissime volte in forme simboliche e in immagini nelle immagini simboliche delle miniature dello scivias questa equivalenza di Eva e Maria che formano il complesso archetipo della femminilità che il degarda chiama la femmina forma dove forma sta per corpo femminile non non è la forma aristotelica diciamo la forma astratta Eva è per il degarda la faccia primordiale dell'archetipo della femminilità insieme virginale e feconda prima di volgersi verso Adamo Eva nel cui corpo era contenuta in inuce tutta l'umanità Eva come le stelle nell'etere guarda Dio c'è una lettera che lei scrive a una comunità femminile di Zvi Falten in cui dice proprio Eva guarda Dio ed è la madre di tutta l'umanità poi si volge ad Adamo e infatti nel volgersi ad Adamo e poi con la questione del peccato originale finisce che la donna rimane sottomessa viene sottomessa all'uomo ma per il degarda appunto la bellezza femminile rimane intatta nonostante questo e nella lettera alla badessa di Andernach in cui le aveva rivolto un rimprovero dicendo ah le tue monache si vestono lussuosamente ballano e cantano fanno tutte queste cose sconvenienti per le monache lei dice la vergine è nella sua bellezza nella bellezza del paradiso primordiale è la donna sposata che come i fiori d'inverno in qualche modo ha la sua bellezza offuscata dalla sottomissione all'uomo nella condizione virginale questa bellezza può e deve rifulgere è la bellezza del paradiso quindi è appunto il demonio che ingannando Eva ha introdotto il male morale e fisico nel creato e qui viene la raffigurazione dello sconvolgimento degli elementi che è stato introdotto appunto da questa defiance e invece è contrapposta alla bellezza all'ordine che gli elementi ritroveranno alla fine dei tempi di qua la sofferenza l'impossibilità di svolgere armoniosamente la propria vita personale la propria vita sociale il proprio rapporto col mondo di qua l'ordine e la bellezza alla fine dei tempi e questa armonia come si raggiunge? si raggiunge appunto come dicevo all'inizio attraverso la cura la cura di sé e degli altri la cura del proprio corpo che riproduce l'armonia che può rientrare in armonia con l'anima e quindi gli scritti naturalistici ora come vedete per gli scritti naturalistici io vi ho messo una immagine che non viene da Hildegarda perché? perché non esistono manoscritti illustrati della Liber Subtilitatum già ne esistono pochissimi e poi sono soltanto parole ma perché Hildegarda vede la conoscenza naturalistica come frutto di quella visione che va al di là della modalità sensibile lei cerca le subtilitate le energie sottili della natura quindi non le interessa anche nelle descrizioni nelle schede enciclopediche di cui è fatta la fisica gli alberi gli animali le varie specie di animali eccetera eccetera non dà normalmente una descrizione fisica dà il senso della cosa in relazione agli esseri umani se serve come cibo se serve come medicina se rappresenta dei pericoli se serve per altri scopi anche magici e non è aliena dall'insegnare anche a usare la pelle del tasso per farsi una cintura che tiene lontano il demonio o l'erba betonica per tener lontani gli incantesimi d'amore chiaramente è una donna del dodicesimo secolo però appunto ritiene che nelle cose nelle realtà naturali sia racchiusa in qualche modo la chiave per ottenere equilibrio e salute corporea che permette al corpo di stare in migliore armonia in migliore equilibrio con l'anima ma accanto alla cura del corpo e dell'anima e mi avvia a chiudere c'è uno strumento che non solo permette di lavorare per ricostituire questa armonia e dunque per ricostituire l'armonia del creato ma è in grado di produrla questa armonia immediatamente e direttamente questo strumento è la musica o meglio il canto naturalmente nel contesto monastico è canto sacro nel canto l'umanità compie un'opera di ordine superiore compie l'opera che è per eccellenza angelica la lode divina cioè si rivolge direttamente al principio trascendente con una sinfonia di lodi paradisia che si chiude lo scivias e questo appunto è l'incipit nel Risen Codex si chiude lo scivias mostrando quale sarà la condizione dopo il ritorno definitivo di Cristo quando si concluderà la vicenda iniziata con il parto divino del mondo e proseguita con il travaglio nella storia umana e scrive il Degarda questa è l'immagine dell'armonia del creato alla fine del dei tempi e che fra l'altro nel suo libro di interpretazione delle immagini dello scivias Sara Salvadori mostra in maniera piuttosto convincente che queste onde non sono un motivo puramente decorativo ma combinate in una certa maniera rinviano all'albero di esse ma io non ve lo so ridire con precisione in ogni modo quello che il Degarda raffigura qui sono il canto all'unisono e l'armonia perché il canto all'unisono e in armonia ripete incessantemente la gloria e l'onore dei cittadini del cielo e porta in alto quello che la parola proferisce come la parola indica il corpo il canto rende manifesto lo spirito poiché l'armonia celeste annuncia la divinità e la parola diffonde la notizia dell'umanità del figlio di Dio e come la potenza di Dio volando dovunque circonda tutte le cose così la razionalità umana risuona con gran forza nelle vive voci e con l'accordo dei suoni risveglia le anime addormentate questo è il canto alla fine è l'armonia della fine ma il canto non risuona soltanto dopo la fine dei tempi nell'armonia ritrovata la pratica quotidiana del canto ha un valore quasi sacramentale perché il canto opera quello che significa mentre io canto unifico corpo e anima e produco appunto questa integrità che è l'armonia e che dunque è salvezza il canto è salvifico con una riflessione sulla perdita della voce come conseguenza del peccato e sulla riunificazione che il canto produce nella vita umana si conclude l'attività di scrittura di Hildegarda nell'ultimo anno prima della morte è la celebre lettera ai prelati di Mainz che avevano gettato l'interdetto sul suo monastero proibendo per quello che lei ritiene un equivoco di aver sepolto un uomo che la chiesa considerava eretico ma che invece si era pentito eccetera e per questa ragione era stato gettato l'interdetto non potevano ricevere l'eucarestia e non potevano cantare e in questa lettera la prima parte riguarda tutta il tema dell'eucarestia e la seconda il tema del peccato prima del peccato è singolare che parlando della voce mi stia andando via ma prima del peccato quando era ancora innocente la voce con cui Adamo cantava le lodi era come quella degli angeli quando il diavolo e poi viene perduta questa voce dopo il peccato e però a un certo punto per ispirazione dei primi antichi profeti gli uomini ricominciano a cantare quando il diavolo ingannatore udì che l'uomo aveva cominciato a cantare per ispirazione di Dio stesso e capì che attraverso quest'arte si sarebbe trasformato sino a recuperare la dolcezza dei canti della patria celeste vide dissolversi le macchinazioni della sua astuzia il profeta considerando questo è Davide considerando sottilmente la natura profonda dello spirito e comprendendo che l'anima è musicale sinfonialis est'anima ci esorta nel salmo a proclamare Dio sulla cetra e a lodarlo sul salterio a dieci corde affinché la legge sia compiuta perché la cetra che ha un suono più basso si riferisce alla disciplina del corpo mentre il salterio che emette suoni più alti si riferisce all'intenzione dello spirito il corpo in verità è il vestito dell'anima che vive nella voce e perciò è giusto che il corpo attraverso la voce canti con l'anima lodi a Dio e quindi e quindi Sì Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 lì non sono raffigurate in maniera allegorica, lo sono in Civias e nell'Ordo Virtutum, ma in Liber Vitae Meritorum si parla delle virtù nella loro vera essenza, cioè luce, emanazioni di luce che vengono da Dio. Ma i vizi sì che lo sono, e i vizi sono tutto il repertorio di Bosch e non basta, sono figure impressionantissime, teriomorfe, composite, oppure anche mescolanza di immagini vegetali e umane, cioè quindi l'ultimo, per dire, l'ultimo vizio è la depressione, che non sono propriamente vizi, no? Specialmente gli ultimi cinque, ma anche gli altri. Il de Garda li tratta più come caratteristiche, direi, psicologiche, no? Psicologiche e morali. L'ultimo, appunto, il trentacinquesimo, è la depressione. E la depressione è raffigurata come un albero secco che ha però volto e mani di donna, cioè è una donna albero, una specie di Daphne medievale, però contorta e secca, arida. È il contrario della viriditas, ecco perché è l'ultimo vizio probabilmente, a cui corrisponde poi la gioia celeste come virtù. Ma ecco, per dire, siamo, capito, in un contesto che sarebbe tutto da, sarebbe tutto da lavorare. E il Liber Vitae Meritorum ha una traduzione italiana che permette un primo approccio, fatta da una persona che sapeva il latino ma non conosceva il de Garda, purtroppo. Quindi è un po' così, in certi punti andrebbe veramente rivisto. Queste sono due, le due piste principali. Poi il resto, prendere i lavori della Pereira e correggerli. Tutto quello che ho detto è possibile di essere corretto. Per rimanere in Italia, perché poi, insomma, voglio dire, ci sono stupendi studiosi in giro per il mondo. Parlavi di Dante. Il primo che ha paragonato il de Garda a Dante è stato Peter Dronche. E ecco, prendere i lavori di Peter Dronche e studiarli seriamente. Seriamente. Aspetta, davvero grazie. Facciamo Elisabetta. C'è due un passo. No, 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 no. E' anche io una domanda dopo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Così raro. Io avevo in realtà una curiosità di carattere più storico. Perché lei ha citato tra gli interlocutori di Il de Garda, Papa Eugenio III, Bernardo di Clairvaux, Eleonora d'Aquitania, che sono tutti indiscussi protagonisti dell'epoca delle crociate, fondamentalmente. E quindi mi chiedo, ma Il de Garda, da badessa del mondo, si è mai esposta sul tema? No. Non ha mai preso posizione? No. Che io sappia, no. Allora, non conosco le sue lettere così a fondo, sono più di 300 lettere. Non ho indagato sull'argomento, ma per tutto quello che io ho letto, credo di no. Ok, d'accordo. Però sui catari sì. Sui catari sì, invece, sui catari sì. Perché i catari sono vicini a lei, da un punto di vista proprio geografico, no? Colonia, Mainz, sono prossime. E poi perché, dunque, l'anno in cui lei scrive questa lettera, che ora però ho il vuoto nella memoria, è l'anno in cui vengono condannati e bruciati a Colonia, cinque, mi pare, persone conosciute come catari. E quindi è un momento evidentemente di grossa crisi che suscita risposte da parte di lei in questa lettera e da parte di un'altra visionaria con cui lei è in corrispondenza, che è Elisabetta di Schoenau e il fratello Egberto. Quindi c'è questo momento in cui, come dire, questi intellettuali, questi intellettuali visionari, si impegnano nella lotta. Lei è feroce da un punto di vista dottrinale, non da un punto di vista disciplinare. Grazie, grazie mille. Ecco, allora anch'io ringrazio moltissimo questa bellissima presentazione, anche perché non siamo abituati a questo taglio filosofico. Insomma, credo che di nuovo un invito alla multidisciplinarietà faccia solo bene alle nostre materie. E tra le tantissime cose anch'io che insomma mi piacerebbe così approfondire, una cosa mi ha colpito moltissimo, perché il De Garda anch'io non l'ho mai studiato in modo approfondito, ma invece temi tangenti mi ha colpito. Questa cosa l'approfondirò del commento ai Vangeli, perché noi ci siamo imbattute soltanto in un'altra donna che ha fatto un commento e tra l'altro è tramandato anche in modo molto parziale. Quindi anche questa attitudine di cimentarsi con una cosa che è chiaramente maschile, insomma, il commento alle Sacre Scritture. Ma la domanda invece verte su un altro tema che mi è piaciuto moltissimo, e cioè il tema della figura mariana, insomma, che è un tema fortissimo in tutto il XII secolo, forte tanto quanto la misoginia, insomma, Bernardo e grandi cantori della Vergine. Però mi sembra che qui andiamo oltre, andiamo in una dimensione che io non ho mai trovato nella letteratura. Mi ha colpito moltissimo, quindi ora forse non sono l'unica. Se si può approfondire un po' questo aspetto, perché mi è sembrato veramente, ecco, una cosa di grandissimo impatto, insomma. Sì, lo è, lo è certamente, nel senso che, allora, cominciamo da un dato proprio puramente testuale. Nella sinfonia, per come è organizzata, dunque ci sono, inizia con i canti rivolti a Dio creatore, e allo Spirito Santo, a Maria, agli angeli e poi a tutte le tipologie di santi. Allora, non ci sono Carmina scritti dedicati a Cristo. C'è Maria. Questo non è poco. Non solo, ma sono i, come dire, il blocco dei Carmina Mariani, allora, è giocato su una serie di immagini, la più pregnante delle quali è quella dell'aurora, dell'incarnazione, per l'appunto. E credo che tutta la simbologia più importante ci si possa ritrovare, o se non tutta, ma certamente gli aspetti più salienti. Quindi, sì, direi che è un tema che andrebbe approfondito. Come, sia in relazione al tema della viriditas, perché Maria è la virgo viridis per eccellenza, per eccellenza, sia in relazione con il tema della virginitas, e poi proprio gli aspetti del femminile non soggetto. E quindi i canti per Orsola e le sue compagne, che sono anche quelli un bel blocco. Sì, comunque, Maria, appunto, basti vedere che, appunto, lo scivia se finisce con questa immagine. Posso rispondere soltanto un'impressione che ho avuto. Quando lei ha letto il bellissimo brano iniziale della protestificazio, impressionante anche quello, beh, quella era una sorta di annunciazione, su cui poi si è aggiunta anche una Pentecoste e alla fine anche un elettroshock, con il lampo che arriva al cervello. Però tutto insieme era l'annuncio di una vita nuova, la vita che avrebbe partorito il Des Garda con le sue opere. Insomma, l'inquadramento sembrava dell'annunciazione. Quindi un tema mariano culto, diciamo, all'uso. Grazie, sì, questo è un pensiero che non ho fornato, ma che ascolto con piacere, sì, perché mi sembra fruttuoso. È vero. Io ho curiosità. Scusate. Anche io mi unisco ai ringraziamenti, è stata una lezione da cui ho imparato veramente tantissimo. La curiosità riguarda il Risen Codex. A che cosa alludevi? Forse non è perso. Ah, sì, questa è una cosa. C'è qualcosa dietro. Allora, il Risen Codex, quello c'è, ce l'abbiamo a Wiesbaden tranquillo, il suo gemello, cioè il manoscritto 1, perché era Wiesbaden and Schieffthein. Allora, negli anni venti, questo manoscritto esisteva ancora all'inizio del novecento, quando il monastero, quello che attualmente è la Hildegarda Abtai di Eibingen, era, è stato chiuso per alcuni anni, poi è riaperto, insomma, è stata rifondata agli inizi del novecento. E loro custodivi, cioè, avevano ancora il possesso nominale di questo manoscritto. Nel 27, 1927, l'abbadessa di allora, Regin Trudis, non mi ricordo più come, ha deciso di far fare una copia, un facsimile, non solo su pergamena, non solo manoscritto, da tre scribe diverse, perché le analisi codicologiche che erano state fatte già nell'ottocento e primissimi del novecento dimostravano questo. Abbiamo, per fortuna, da queste analisi codicologiche, abbiamo una scrittura, un libro di un studioso francese che si chiama Louis Baillet, con anche la riproduzione fotografica completa del manoscritto, naturalmente in bianco e nero, perché siamo in un'epoca dove ancora non c'è. E allora questa abbadessa decide di mettere tre delle sue monache a fare questo lavoro, con materiali preziosissimi, cioè riproducendo i pigmenti che si usavano nel Medioevo, con l'oro, con un altro materiale che è una lamina rosata, che probabilmente è una mescolanza di argento con qualche altra cosa, non lo so, per tre anni, quattro anni, queste tre amanuensi lavorano e fanno questo facsimile che è appunto confrontabile con la riproduzione bianco-nero, è fedelissimo, perfetto. I colori, le cose, sono fatti con quei materiali, se non vediamo l'originale non sappiamo quanto ne siano lontani, ma probabilmente non molto. e durante la Seconda Guerra Mondiale il manoscritto, i due manoscritti vengono, no, quello, quello prezioso, viene affidato a una banca, in un cavo di una banca di Dresda, peggior posto non ci poteva essere. Però appunto, mentre voi trovate scritto negli studi pochi, ma soprattutto tedeschi ancora negli anni Sessanta, Schiffer, che se è così, che dicono è bruciato nella biblioteca di Dresda, da un certo punto in là comincia a dire è stato, è scomparso, è stato perduto. E le monache di Eibingen ovviamente stanno così, però non dicono, cioè c'è uno strano fermento, credo nato dagli studiosi americani, ma con precisione non so la vicenda, anche perché io ho proprio poco la testa per le spy stories, quindi non mi riesce di pensarle in questi termini, però serpeggia questa cosa. Devo dire, ho visto personalmente il manoscritto, il facsimile, è una cosa di una bellezza veramente unica, è davvero emozionante vedere quello. L'idea che potesse risaltare fuori da qualche strano posto, perché ci sono strane vicende fra le, diciamo, le gerarchie monastiche lì della, il Degard d'Abtai, famiglie nobiliari, i lussemburghesi, dei giri, giri molto strani in questi primi anni del Novecento e questa padezza che decide di spendere un'ira per fare questa cosa, perché? Profezia, qualcuno dice, è stata ispirata da Dio, bene, grande, di fatto, altrimenti non potremmo ragionare più di tanto, perché, ecco, perché per esempio i colori in queste immagini hanno, in queste miniature, hanno chiaramente un significato simbolico, ma il lavoro, per esempio, che ha fatto la Sara, lavorando anche su dettagli come le cornici, i colori delle cornici, i motivi delle cornici e cosa ci possono indicare, rimandano per esempio certe volte da una immagine, da una miniatura a un'altra e quindi ci fanno come dei percorsi. E su quello, cioè che i colori siano fedeli all'originale, su quello direi non ci piove, poi uguali o no. non è che le monache lo fanno vedere tanto facilmente, però, si lo vengono, sì, però una volta nella vita sono riuscita a vederlo, sì. Ecco. Grazie. Sì, buonasera. Allora, premetto che sono una musicista. Allora, il mio non è una domanda, ma è una proposta di quando farete queste conferenze di fare ascoltare la musica da un artista, perché allora il supporto, come abbiamo sentito, non è assolutamente interessante. mentre un artista può veramente trasmettere quello che si sente nel canto e quindi è un'esperienza anche sensoriale per chi è presente alla conferenza. Questo è il mio pensiero, però, io la ringrazio delle sue parole che sono state molto interessanti e veramente ha ricostruito un percorso in poco tempo esaustivo, però io sento la mancanza dell'arte in questo senso. Ecco, mi scusi se sono un po' così, come dire, fuori tema dalle domande, ma sento di dirle questa, insomma, la consiglierei di cercare delle artiste che possono cantare questi canti o suonare la cetra, il salterio e dal vivo sentire questo elemento che per la, insomma, il legare dei Bing è stato fondante, insomma, fondamentale. La ringrazio in ogni caso. Grazie, questo è ovviamente è un bellissimo suggerimento, ce ne sono tanti di artisti e devo dire le iniziative in cui io sono stata presente o protagonista in cui c'era effettivamente la musica dal vivo per esempio quattro anni fa a Pavia ci fu una presentazione del mio librino di Gabrielli con il coro diretto dalla Tiziana Fumagalli che è un gruppo femminile che lavora da tanti anni su Il De Garda e quindi è entrato proprio nello spirito. Ebbè, è un'altra cosa sentire dal vivo e persone ce ne sono. non vicinissime devo dire non in Toscana che io sappia. Cioè in Toscana ogni tanto viene ma forse dovrei dire veniva perché ora è un pezzetto che non c'è più stato e il maestro Livio Picotti che è uno anche lui delle persone che lavorano sulla musica di Il De Garda da più tempo per motivi anche di sue scelte ma anche proprio di vita di vicende personali era sposato con una cantante tedesca che poi è morta molti anni fa e che insomma probabilmente l'ha iniziato lei Il De Garda allora lui veniva ogni tanto a Sant'Antimo ma appunto con il cambiamento istituzionale a Sant'Antimo eccetera l'ultimo seminario credo sia quello dove ho indegnamente partecipato anch'io ma prima del covid quindi probabilmente il 19 se non il 18 comunque ci sono tanti artiste le posso assicurare sì è che Il De Garda non è che richiede soltanto una bella voce No no De Garda chiede una comprensione dei testi perché il lavoro anche di interpretazione musicale deve in qualche modo deve in qualche modo non può prescindere da il contatto col testo e la comprensione di quelli che sono i punti salienti del testo c'è grosso modo sì si vede a occhio nudo una un andamento che corrisponde a certi punti ma insomma richiede un lavoro molto molto fine ecco però l'idea è ottima sarebbe bellissimo beh allora devo dire nel 2010 si organizzò qui a Siena mi ricordo nemmeno per quale per quale circostanza ma insomma la Marta Cristiani venne la vita io a tenere una lezione magistrale se ci stai e con una cantante del nord Italia della provincia di Brescia che lavora come voce solista ma con accompagnandosi insomma con con un bordone di campane di vetro e fece un concerto nella nella chiesa dei servi con un freddo mortale perché era dicembre poi c'eravate per l'appunto però fu una cosa un'esperienza molto molto bella e appunto e complementò questo questa lezione che c'era stata il pomeriggio non ci abbiamo pensato no vabbè non si può fare tutto un bel suggerimento la prossima la prossima volta se posso farei una domanda anche io fra le 10.000 che ti farei e che ti farò nel proseguo della serata però visto anche il pubblico di giovani e di giovani studiosi di Dante anche che abbiamo qui davanti il Degarda è Dante allora se noi guardiamo all'enciclopedia dantesca per esempio vediamo che un contatto viene assolutamente escluso io nel corso dei miei studi fortunosamente approdando al Warburg lì ho avuto occasione appunto fra i vari studiosi che ci sono anche lì che c'erano il Degarda di leggere appunto di conoscere i testi di il Degarda e da quel momento mi si è acceso qualche cosa nella testa e ho seguito varie piste e mi pare di aver indicato luoghi di contatto particolarmente significativi e devo dire che avevo così avevo cominciato studiando gli angeli dell'ottavo del purgatorio questi angeli verdi che vengono del grembo di Maria per cui non c'è nessuna sperazione di questa viriditas degli angeli che significa non speranza come viene detto un po' così superficialmente dai commentatori ma significa qualche cosa d'altro che sono verdi come fogliette pur monate dice Dante eccetera vengono e avevo trovato delle così dei non mi ricordo bene adesso in questo momento nemmeno di cosa però che mettevano in contatto questi angeli della terza schiera probabilmente appunto a Maria a Maria attraverso questo verde che rimaneva appunto un po' misterioso allora a quello oppure anche io sono molto legata allo scipias perché diciamo il primo testo che ho conosciuto di Degarda che ho letto con attenzione con passione eccetera la descrizione dei cori angelici non sono cose che si trovano tanto diffusamente ancora la femmina balbo ho trovato dei punti in cui Dante traduce traduce le visioni dello scivias descrivendo questa questa parte sì esatto la parte di sotto queste cose qui allora quello che in genere si può obiettare a questo è che diffusione aveva il Degarda perché si dice i manoscritti sono pochi ovviamente c'è quel testo che è presente quel codice che è presente a Lucca insomma quindi testimonia anche di una diffusione nostra qui di Toscana addirittura del libro delle opere divine mi ricordo l'ho editato per la prima volta Gigetta dagli regoli mi pare per le miniature del codice ecco cosa si può dire della della diffusione di questi di questi testi di queste visioni di Hildegarda allora una cosa che si può dire è che la l'operazione che ha fatto Gebenone di Eberbach di prendere le parti apocalittiche soprattutto di Scivias ma anche da qualche lettera dagli altri testi e farne un blocco che andava da sé nello speculo un futuro un temporum ha in qualche modo sbarrato la strada cioè ha caratterizzato in maniera talmente forte il De Garda come profeta apocalittico che ha un po' sbarrato la strada a tutte le altre cose c'è da dire che quando Gebenone lesse il suo lavoro a Ruppersberg c'è una cronaca che loro racconta poi attraverso Tritemion si sa questa cosa le monache si arrabbiarono un po' dissero che insomma non gli piaceva quello che il lavoro che lui aveva fatto però è quello che è andato avanti soprattutto devo dire Parigi ambienti tedeschi e cose così il manoscritto di Lucca d'altra parte come è arrivato a Lucca non si sa però si sa che è stato confezionato a Ruppersberg anche quello lì c'è un forse un punto interrogativo c'erano dei bozzetti che risalivano nel De Garda sì no non si sa però comunque è stato fatto in quel contesto ed è stato fatto in funzione della proposta di canonizzazione dell'apertura del processo di canonizzazione che risale agli anni 20 del 200 allora se quel manoscritto è stato fatto per essere mandato a Roma dove perché ormai era cambiato il modo di canonizzare era diventato una procedura ufficiale andava fatta in sede centrale della chiesa non in sede locale eccetera allora se quel manoscritto ha viaggiato verso Roma e si è fermato a Lucca e non lo so perché questo non riesce a venire più qua se il manoscritto viaggiava verso Roma e si è fermato a Lucca appunto le masette e dalle regoli riscontravano degli elementi che potevano derivare da una suggestione il De Gardiana negli affreschi del cimitero monumentale di Fisa se mi ricordo bene c'è anche uno studio che nasce da una tesi credo quadriennale o dottorale di una giovane bolognese che però ha smesso che è un italianista fra l'altro che ha smesso di occuparsi del 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 De Garda in Toscana ma che aveva messo gli occhi su Santa Croce poi ti do il contatto casomai e questo risale appunto a 12 13 anni fa questo suo lavoro in cui lei metteva proprio in relazione alcune immagini il De Gardiane con alcune immagini dantesche poi avevo visto appunto il tuo saggio però con un'indagine a tappeto su cos'era il De Garda al di là di Gebenone per ora non è stata fatta ci abbiamo gli strumenti perché i manoscritti ormai sono tutti catalogati insomma si sanno molte cose però non per ora non non esce niente di è un tema estremamente interessante sì io rileggevo durante il Covid mi ero messa a rileggere la come cioè la sera con mio marito io leggevo e lui ascoltava no a me piace anche leggere altavoce che cantare e queste cose e quindi rileggendo a tappeto tutta la commedia un canto per sera effettivamente anch'io ogni tanto ho messo dei dei freghini sulle pagine però questo davvero richiede il lavoro di italianisti insomma dantisti di livello quindi questo aspetta a voi ci sono altre domande io posso prima cosa dicevi che in area germanica gli studi si sono si sente si si sono concentrati sugli studi naturalistici sull'erboristeria e allora mi è fatto venire in mente un ricordo e mi rivolgo soprattutto alle amiche di Medioeva la tisana quando veniste a Roma eh quando veniste a Roma per il convegno che avevo organizzato sulla legalità femminile allora eravate solo colleghe non amiche e come piccola poforeta vi ho regalato le tisane di il De Garda di Bingen peccato non c'ero eh sì te le farò avere sì va bene sì no volevo dire è una bella idea ma non è che in Germania gli studi sono prevalentemente sulla sugli aspetti naturalistici hanno cominciato prima sugli aspetti naturalistici poi in realtà ora in Germania c'è proprio questo nucleo dell'abbazia di Heibingen di un istituto di Francoforte che stanno tenendo molto saldamente il pugno su sugli studi di interpretazione di Il De Garda e loro non vogliono sentir parlare dell'Il De Garda naturalistica e delle tisane e invece e invece allora nonostante tutto nonostante tutte le derive possibili pop neo age che questa cosa può prendere secondo me è molto interessante perché io sostengo che Il De Garda non si non si riesce a tradirla mai fino a un fondo nemmeno i peggiori proprio quelli che la vogliono sfruttare o come dicevo prima privatamente la vogliono mangiare se la vogliono appropriare e alla fine non ci riescono c'è un fondo in Il De Garda che riemerge ed è questo tema antropologico che è fortissimo questo tema della salute e salvezza che che è fortissimo e che oggi ci parla molto poi allora c'è uno studioso americano si chiama Nathaniel Campbell che è il traduttore in inglese del Divino Romoperum che ha preso quest'abitudine tutti gli anni per la festa di Il De Garda che è il 17 settembre manda a tutti quelli che ha nel suo indirizzare a tutti gli studiosi di Il De Garda forse no ma a molti sì un cronogramma cioè un poemetto in latino in cui compaiono le lettere che compongono l'anno in cui si è quest'anno era 2022 e quest'anno lui apre questo suo cronogramma con Il De Gardis Profetissa Ecology Va bene allora forse è l'ora di chiudere questa splendida lezione questa inaugurazione così sontuosa che ci hai regalato per il nostro per il nostro ciclo e grazie tantissime Michela e grazie a tutti voi che siete stati qui presenti o chi ha seguito la distanza grazie